Buongiorno, bene arrivate. Grazie, buongiorno a tutti voi. Mi chiamo Barbara Leardini, provengo da Rimini e la mia modella si chiama Jennifer. Jennifer l'hai conosciuta qua o la conoscevi già? No, Jennifer l'ho conosciuta qui ieri sera, per l'esattezza ieri sera. E ha deciso che giocava con noi? Sì, le ho fatto questa proposta e tra l'altro Jennifer è qui in viaggio di nozze. E il marito è assolutamente contento di questa esperienza e l'aspetta trepidante al di là del vetro. Quindi tu l'hai vestita perché l'hai in viaggio di nozze, l'hai preparata pensando alle sue serate? Sì, l'ho preparata pensando alle sue serate e devo ringraziarla perché è stata gentilissima e l'ho rubata al suo compagno, al suo marito e devo solo ringraziarla. Però guardando come l'hai incontrata e guardandola adesso io penso che sia lei che il suo marito sono molto contenti e lei non si cambia per stasera, suppongo. Spero di no. No, no, non si cambia. Spero di no. A me piace moltissimo il make-up che hai eseguito, penso che sia il fulcro del look, anche se è molto bello anche l'abito, ma di questo lo lascio parlarebili. Ma il make-up ha un grande languore negli occhi, le labbra sono ben segnate ma non sono prepotenti proprio per lasciare... Insomma, io il viso lo trovo un gran bel viso e capisco che c'era la materia prima ma che è stata molto valorizzata. Complimenti Barbara. Grazie. Io trovo veramente molta tecnicità nel make-up perché l'occhio è stato valorizzato in maniera incredibile, tanto vedendo l'immagine del prima e per quello che trovo adesso buon lavoro. Mi racconti però tecnicamente che cosa hai utilizzato e come hai poi eseguito questo trucco? Allora, prima di tutto vorrei dire questo, che ovviamente mi sarebbe piaciuto avere anche più tempo a disposizione e che comunque la postazione lavoro non mi ha consentito di fare eventualmente anche quello che avrei voluto e avrei desiderato considerando il fatto che abbiamo una bellissima ragazza, una bellissima modella. La scelta che io ho fatto è questa. Allora, prima di tutto, come dicevamo poc'anzi, io sono una make-up artist, però mi occupo, è la mia passione, mi occupo da anni di immagine. Ho fatto una scelta di questo tipo, considerando comunque sì, questo occhio molto bello che secondo me è il punto focale. Ho focalizzato l'attenzione comunque sugli occhi, nel volto di questa ragazza, in quanto ritengo siano prima di tutto di un colore molto caldo, molto bello, un bel nocciola con delle pagliuste dorate all'interno. La strategia che ho adottato è una strategia correttiva, nel senso che ho corretto con un'abordatura tecnica, da un terzo dell'occhio verso l'esterno, ho corretto proprio quest'occhio che è molto bello, ma è all'ingiù. Di conseguenza ho eseguito un'abordatura atta a sollevare l'occhio. È diventato languido. L'ho scelto, l'ho voluto. E lo vediamo. L'ho voluto. Allora, le e-style, io ho delle manualità basiche, ma non mi occupo di capelli purtroppo. E ho fatto comunque una scelta tecnica. La scelta tecnica è stata comunque, nel valutare questo tipo di immagine, è stata quella di mettere in evidenza il volto della ragazza. Ho nascosto delle attaccature, perché abbiamo delle problematiche a livello di attaccature. E ho scelto tecnicamente, non l'ho eseguita manualmente, ma ho scelto tecnicamente il punto della riga. La posizione. Sì, e l'attaccatura. Poi col make-up ho nascosto comunque anche delle piccole imperfezioni. No, io volevo solo aggiungere che questo a-style è una buona scelta, perché il viso della modella è in primo piano e doveva essere così. E poi mi è piaciuto sentirti dire che purtroppo non ti occupi di a-style, perché con noi potrai imparare, se ti lo vorrai. Certo, mi piacerebbe. Benissimo. Io vorrei dire complimenti sui look, il toto look, è molto di effetto. Grazie. È molto bella. I vestiti di chi sono? Suoi. Sono suoi. La colana? Mia. La colana è tua, è un'ottima scelta di aggiungere. È un tocco molto fine, la rende molto fine. Non so cosa dire, è un look molto bella, che ci piace, è molto bella. Ecco, chiedo scusa, scusi se l'ho interrotta, non ho detto una cosa per me molto importante, un discorso che facevamo anche prima sulla scelta comunque del look. Ho bilanciato, ho cercato di bilanciare alcuni elementi, ho scelto appositamente di truccare gli occhi e correggere comunque gli occhi e renderli languidi, come diceva lei poco anzi, e comunque di non sottolineare troppo, rendere troppo rossa anche la bocca. C'è un grande equilibrio ed è questo che ce la fa apprezzare. Grazie mille, grazie davvero Barbara.